buongiorno e benvenuti nella mia cucina avete presente l'ultimo broccolo romanesco del nostro orto eccolo qui ve lo presento e allora mio figlio l'altra sera mi ha dato un'idea meravigliosa mi ha detto mamma scusami con questo broccolo che fai tu al forno con la besciamella e il parmigiano perché non ci fai un bel timballo di pasta e a questo punto io ovviamente do retta mio figlio perché mio figlio è il crappo della situazione palato finissimo però voi intanto iscrivetevi al nostro canale mettete un bel like a questa ricetta per favore condividetela con i vostri amici grazie allora come primo step mi dico gli ingredienti poi cominciamo a fare l'operazione in sé allora qui abbiamo circa 500 grammi di besciamella 150 grammi di parmigiano reggiano se volete anche il grana va benissimo quattro sottilette una confezione di pasta sfoglia già pronta così è molto più veloce da 500 grammi della noce moscata potete anche non metterla a noi piace molto quindi la metteremo e un broccolo romanesco di circa un chilo e mezzo ok ma se non vi piace romanesco potete usare anche il cavolfiore dicevo come primo step andiamo a tagliare a pezzetti non piccoli il nostro broccolo e ovviamente a lavarlo e disinfettarlo perché comunque nell'orto anche se non mettiamo assolutamente nessun tipo di concime o disinfettante o insetticida quello che sia è comunque sporco di terra e magari c'è qualche insettino quindi io lo andrò a mettere a bagno in acqua sale e bicarbonato ci vediamo dopo belli fumanti eccoli qua sono pronti allora noi adesso che cosa facciamo li prendiamo li mettiamo nella teglia sposto gli ingredienti così io ho messo un foglio di carta da forno perché è molto più semplice poi pulirla questa teglia ci tengo tantissimo perché sono quelle usaggetta ma sono talmente è talmente rigida e mi piace anche tenerla e lavarla spesso allora lì sistemiamo bene e adesso mettiamo besciamella questa ricetta la trovate già sul nostro canale youtube quindi però mi sembra che l'abbiamo fatta col cavolfiore è buonissimo poi le sottilette ragazzi nel frattempo mi scrivete nei commenti la città da dove ci state guardando perché ho scoperto che ci guardate veramente da tutto il mondo che bello bellissimo le ricette di mia nonna e non viste in tutto il mondo che spettacolo adesso le sottilette si tutte e quattro se volete metterne di più ma liberissimi e non gli dico un altro tipo di formaggio bloccato subito perché tu quello che volevi chiedere vero perché questo è cremoso si squaglia e quindi un pochino di noce moscata ripeto potete non metterla se non vi piace a noi piace molto e quindi ce la mettiamo e parmigiano come se piovesse la metà l'altra la teniamo per la lasagna informa a 190 gradi per circa 25 minuti statico eccolo pronto a questo punto cosa facciamo prendiamo una forchetta e andiamo a schiacciare il tutto questa già sarebbe una ricetta sì sì andiamo a schiacciare in questo modo una volta schiacciato tutto poi andremo a preparare la nostra lasagna allora iniziamo come si fa per tutte le lasagne tradizionali un po di condimento alla base se no verrebbe secca la prima parte no giusto così poi mettiamo i fogli di lasagna potete anche farlo in casa è però quelle le dovete sbollentare prima questa invece molto più semplice molto più pratica ed è pronta parmigiano per ultimo si alla fine andrò a mettere un pochino di latte e un altre due tre sottilette o pezzetti di asiago pezzetti che mozzarella in realtà sopra proprio per fare un po più la cosa ricca ok ora ci vediamo a lasagna composta ci vediamo lasagna composta eccola qui siamo quasi pronti metto un goccino di latte per inumidirla un po mezzo bicchiere al massimo e ora il forno preriscaldato 190 gradi per 35 minuti circa a dopo è pronta eccola qui bella croccante sopra esattamente come piace a noi adesso ragazzi quello che vedete scuro sopra sono le sottilette che nel forno si sfruiscono molto è vero ma a noi piace così eccola qui sì e poi ecco voglio dire si fa in poco tempo ed è vegetariano anche le due ricette in una perché con e senza lasagna è vero ci vediamo